Amici consulenti del credito, oggi vi presento Caterina Trivisone, responsabile risorse umane e responsabile dell'Academy First Class. Ciao Francesca, benvenuta. Caterina ci accoglie nell'Academy di Prestito Sì. In questa location si tengono importanti eventi formativi e meeting aziendali. La domanda allora è d'obbligo. Caterina, quanto è importante la formazione delle risorse umane in Prestito Sì? Sai Francesca, a rendere grande un'azienda sono proprio le persone che ci lavorano. Il capitale umano è sicuramente la chiave del successo di qualunque azienda. I nostri percorsi formativi mirano all'acquisizione di competenze tecniche, ma anche all'implementazione di competenze trasversali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi, sia aziendali che personali. Uno dei primi eventi aziendali rivolti alle risorse umane è il Welcome Day. È una giornata dedicata ad accogliere i nuovi consulenti del credito entrati a far parte della grande famiglia Prestito Sì. Il Welcome Day è un momento di presentazione dell'azienda nel suo complesso, quindi storia, organizzazione, core business, vision, mission, obiettivi nel medio e nel lungo periodo. Prevede l'intervento dell'alta direzione, dei divisional top manager, dei responsabili back office e dell'area compliance per una panoramica completa sulle diverse divisioni aziendali. Caterina, ho sentito molto parlare anche del First Class Academy, puoi parlarmene meglio? Certo Francesca, First Class Academy è un percorso formativo rivolto sia ai giovani neodiplomati e neoreati che desiderano intraprendere una carriera nel settore della migrazione creditizia che ha tutta la rete di credit advisor che vogliono migliorare le proprie competenze e quindi specializzarsi anche in altre divisioni. Il progetto prevede un percorso formativo di circa quattro mesi che può essere eseguito sia in presenza presso il nostro headquarter di Solofra, proprio qui nella nostra aula, che in modalità webinar. Il programma prevede un approfondimento sui singoli prodotti a partire dalla sessione del quinto che ricordo rappresenta il nostro core business per poi procedere con i prestiti personali, i mutui e i finanziamenti aziendali. Durante il percorso è previsto anche l'esame EOAM che è fondamentale per abilitarsi alla professione di consulente del credito. Noi crediamo in te lo slogan dell'academy, ma che cosa significa? Francesca, lo slogan noi crediamo in te racchiude proprio lo spirito con cui il prestito sì si apre ai nuovi talenti, a quanti vogliono mettersi in gioco e cogliere l'opportunità che offriamo, ossia un percorso di carriera in un mercato in continua crescita. Creare valore e condividerlo per noi di prestito sì è una vera e propria missione ed è proprio per questo che abbiamo lavorato anche alla digitalizzazione dei nostri percorsi formativi. Stai parlando della piattaforma di e-learning first class? Proprio così Francesca, first class è anche una piattaforma e-learning realizzata dalla nostra area IT. Si tratta di uno strumento formativo dedicato a tutti i consulenti del credito che hanno così la possibilità di accedere non solo ai moduli formativi relativi ai nostri prodotti, ma anche a novità e aggiornamenti del settore del credito e ad altri contenuti riguardanti ad esempio il marketing e la comunicazione. Caterina, perché un consulente del credito dovrebbe scegliere PrestitoSì? PrestitoSì è un'azienda che coniuga l'attenzione alla persona con l'innovazione, il dinamismo e la proiezione al futuro e al cambiamento. La nostra forza è il clima di collaborazione e di motivazione che contribuisce a creare un contesto favorevole sia alla valorizzazione delle risorse già presenti sia all'inserimento di nuovi talenti. La crescita di un'azienda è legata allo sviluppo del capitale umano e questo significa alimentare, sostenere e motivare chi sceglie di entrare a far parte della nostra squadra. Proprio per questo ci impegniamo a strutturare percorsi di affiancamento, formazione continua e in quest'ottica proprio che organizziamo eventi con formatori mental coach di fama nazionale come Zomaec, Max Formisano, i fratelli Lofria, Stefano Santori e Daniele Manassero. Quindi Francesca penso di poter affermare che il continuo processo di crescita e formazione offerta a tutti i nostri consulenti del credito è sicuramente uno dei punti di forza di prestito sì.